Su questo canale si parla di voce, di doppiaggio, di adattamento dialoghi e di comunicazione, ma oggi in particolare parliamo delle scuole di doppiaggio. Ciao, sono Walter Rivetti e ho già parlato anche di scuole di doppiaggio sul mio sito www.rivettivalter.com Sì, sul mio sito ho scritto diversi articoli e anche dei video e anche dei podcast, se stai ascoltando solo l'audio, per scegliere la scuola migliore. Inizialmente avevo scritto 10 punti fondamentali, poi dopo un po' ne ho aggiunto un undicesimo. Credo che questo undicesimo punto sia alla fine il più importante di tutti, ma ne parlerò alla fine di questo video. Oggi ti voglio parlare di alcuni trucchetti o cose che non mi piacciono molto delle scuole di doppiaggio. Primo punto è riguarda le scuole di doppiaggio e alcune affermazioni che non mi piacciono molto. Ad esempio, quando si presentano delle persone sugli ANTA. Ho scritto anche un articolo, ho fatto un video, su chi vuole iniziare questa professione, quindi in maniera professionale, e ha già qualche anno sulle spalle. Bene, spesso viene detto, guarda sì, iscriviti pure alla scuola di doppiaggio, tanto di voci ne servono sempre e di voci mature ce n'è bisogno. È un'affermazione vera in parte, perché sì, nel mondo del doppiaggio servono voci mature, prova a pensare a qualsiasi prodotto, ci saranno persone dai 40 anni in su. Però è anche vero che se sarai bravo, se sarai brava a sufficienza per riuscire a diventare un professionista, una professionista, ti dovrai confrontare con delle voci che hanno più o meno la tua tipologia vocale, la tua età vocale, che lavorano già da 30 anni, 40 anni. E quindi sarà molto più difficile riuscire a entrare a lavorare e a guadagnare. Se invece la tua intenzione è quella di toglierti uno sfizio, di imparare anche a usare meglio la voce con il doppiaggio, benissimo, non c'è problema. Se però il tuo obiettivo è quello professionale e quindi di lavorare, di lasciare il lavoro che già stai facendo, allora questo potrebbe essere un problema, una falsa aspettativa. E quindi io, Walter Rivetti, ti metto sul chi va là. Seconda promessa affermazione delle scuole di doppiaggio. Quando ti iscrivi o chiedi informazioni, ti dicono guarda che ci sarà anche a lezione questo grande doppiatore, questa grande doppiatrice. Wow, fantastico. Chi non vorrebbe essere un allievo di questi grandi personaggi? Perfetto. A quel punto però dovresti chiedere Sì, ma quante ore di lezione fa questo grande VIP? È importante sapere quante ore farà di lezione e se le farà in aula oppure in studio, altrimenti sono solo delle promesse per attirare un po' la gente e invece di effettivo non c'è nulla. Quindi informati anche su questa cosa, oltre a tutte le altre cose che ti spiego già negli articoli, come scegliere la scuola di doppiaggio, ossia chi è che fa lezione, è un professionista oppure no. Ci sono dei fonici, c'è qualcuno che fa la parte tecnica o è questa persona, l'insegnante, che fa tutto, tutto fare? Beh, allora, dubita anche un po'. Dov'è il posto? Se la scuola è prestigiosa? Se sono usciti degli allievi? Insomma, tutti questi punti li ho già trattati. E vediamo l'ultimo importante punto delle scuole di doppiaggio. Terzo punto importantissimo. Ho scritto il mio decalogo su come scegliere la scuola di doppiaggio, secondo me, ovviamente. Poi sei libero di fare le tue scelte. Successivamente ho aggiunto un undicesimo punto. E questo punto dice di chiedere alla scuola di doppiaggio di poter assistere ai turni di doppiaggio. Quindi scegliere quelle scuole di doppiaggio che ti permettano anche di assistere ai turni di lavoro. E allora qui si fa una grossa scrematura. La scrematura qual è? Ci sono scuole che fanno solo del proprio business l'insegnamento. E poi ci sono società che lavorano e insegnano. Perché preferire le seconde? Perché quando ti sarai formato, formata anche bene, ti troverai per la strada e dovrai andare a bussare. E in questo periodo di covid è tutto bloccato, d'accordo. Ma anche senza il covid è molto difficile riuscire ad entrare nelle società e ad assistere o a farsi provinare. Quindi se si ha la possibilità di assistere all'interno della propria scuola, questo è un grosso, un grande vantaggio. Hai la possibilità di studiare, di guardare, di rubare il mestiere, come si dice di solito. Allora, molte scuole di doppiaggio che seguono anche i miei video e i miei audio e podcast hanno iniziato a dare questa risposta alla domanda Posso venire a seguire i vostri turni di doppiaggio? Non ne hanno, quindi la risposta è Guarda, gli insegnanti sono dei professionisti. Se sei bravo o sei brava saranno loro a portarti negli studi di doppiaggio. Questo è poco vero ed è una mezza bugia perché è possibile, certo, ma i singoli doppiatori hanno davvero poco margine di manovra. È davvero difficile riuscire a portare un estraneo, perché sei un estraneo, un estraneo, all'interno di una società senza un valido motivo. Hai un provino? No. Hai un personaggio? Hai un turno assegnato? No. Allora, solitamente, non puoi entrare. Capisci perché è difficile per un professionista portare altre persone ai propri turni? Ok. E allora pensa a portarne due, portarne tre. Ma no, uno lo porto in uno studio, uno nell'altro. Non è semplice. È una promessa, vaga. Forse qualche direttore è un po' più avvantaggiato perché ha qualche margine di manovra un po' più ampio. Però non è così semplice. Quindi, l'undicesimo punto dice Vai in quelle scuole di doppiaggio che permettano anche di assistere ai turni di doppiaggio e non ti fa rinfinocchiare da chi ti dirà Sì, ma tanto ci penserà il docente. Lo so che non è facile scegliere una buona scuola di doppiaggio ma è importante ragionare sulle distanze, sui costi, sui professionisti e su cosa ti prometterà di avere dopo aver finito il tuo percorso formativo. Perciò, riflettici un po' di più, fai le tue scelte ma mi raccomando, fai delle scelte sensate non farti trasportare dall'entusiasmo, dal nome o dalle promesse fittizie. Mi raccomando, metti like, metti seguimi, tutte queste cose, campanellina per avere le prossime novità ed essere sempre informato e non essere un cagnone maledetto.